Buongiorno a tutti, siamo in collegamento con Angelo Bonelli che è coordinatore nazionale dei Verdi, lo ringrazio per questa sua partecipazione, grazie Angelo e ben trovato. Grazie dell'invito e buongiorno a tutte e tutti i telespettatori. Allora Angelo, che cosa ne pensi dell'attuale momento politico italiano? Tra l'altro abbiamo letto che il Parlamento chiude per 18 giorni, sebbene avessero detto che volevano continuare a lavorare per tutto il periodo estivo. Io penso che la situazione attuale sia veramente confusa e preoccupante, non mi metto a fare il demagogo, il Parlamento aveva promesso che rimanesse aperto o meno, certo è che vi sono molti provvedimenti e le urgenze legate alla crisi della pandemia da Covid-19, la crisi economica e sociale e anche ambientale, sarebbe stato auspicabile se il Parlamento fosse rimasto aperto anche per convertire numerosi decreti legge, il governo tra poco varerà il decreto di agosto, sarebbe importante che diventasse subito legge, ma detto questo, certamente un decreto è subito legge, ma che venisse convertito immediatamente in legge, la fermo qua insomma. Per me è molto preoccupante perché non riusciamo e non si riesce a capire qual è la visione che il governo ha rispetto al futuro dell'Italia, di come uscire dalla crisi, mi pare che ad esempio il recovery fund si voglia utilizzare veramente in una forma di soldi a pioggia, devo dire che lo stesso Presidente della Repubblica Mattarella ha espresso la preoccupazione in tal senso. Vi faccio un esempio di questa modalità di finanziamenti a pioggia che certamente non aiuteranno il futuro dell'Italia e devo dire potrebbero irritare, se fossi dall'altra parte del confine italiano mi irriterei fortemente. Faccio l'esempio del bonus ticket sui ristoranti, io francamente faccio fatica a capire che debba esserci un bonus a fondo perduto per pagare i ristoranti, di chi fa ristorante, io trovo questa francamente una cosa non seria, non credibile e che non aiuta il nostro Paese a conquistare quella credibilità necessaria, noi abbiamo bisogno di indicare un insieme di riforme, di una visione del futuro, di come si riesce dalla crisi, ma riuscendo a capire anche ad esempio come l'uso delle nuove tecnologie, l'innovazione tecnologica, come passare a una nuova forma di economia utilizzando questa fase di crisi sia possibile e in questo caso noi ribadiamo quelle che sono le nostre storiche proposte, vuole dire il governo dovrebbe utilizzare questa fase per proporre e realizzare politiche energetiche al 100% di innovabili, lavorare molto sull'efficienza energetica, aiutare ad esempio quei processi virtuosi che consentano ad esempio nella produzione dei prodotti di ridurre sempre più il consumo di energie, ma penso anche ad esempio a questo scandalo tipicamente italiano che sono le bonifiche mai fatte, decine di migliaia di ettari inquinati da metalli pesanti, di ossini, benzopirene, su cui il principio che inquina pagano si è attuato e quei terreni potrebbero essere convertiti ad esempio in attività nuove dal punto di vista tecnologico, pensiamo a quello che è accaduto a Bilbao nel bacino carbonifero della Ruhr dove i tedeschi sono riusciti a bonificare aree fortemente inquinate e ora in quei luoghi vi sono attività industriali innovative che hanno prodotto molta occupazione, allora quello che manca è una visione, se la visione di oggi è quella di ragionare con le antiche ricette di ieri prima della situazione pre Covid che sono state anche responsabili della crisi economica non ci siamo, faccio un ulteriore esempio e poi mi tarcio, tra poco inizieranno le scuole, le attività produttive, i ministeri, probabilmente terminerà lo smart working e così via dicendo. La questione del trasporto pubblico nelle città assume una funzione estremamente importante anche per garantire quello che viene chiamato il distanziamento, non lo chiamo sociale perché non mi piace, però il distanziamento fisico, però con i mezzi pubblici nel nostro paese, in molte città dove le persone sono costrette a stare attaccate come le sardine, ma è evidente che questo non può essere garantito, invece un investimento forte nel trasporto pubblico anche per dare una risposta alla grande questione dell'inquinamento legato allo smog sarebbe un fatto molto importante, ricordo che l'Agenzia Europea per l'Ambiente stima in Italia 75 mila dicessi l'anno solo per lo smog, con un costo economico e sociale quantificato in una frocchetta che va dai 47 miliardi ai 120 miliardi di Euro l'anno, non sono dati dei verdi, sono dati dell'Agenzia Europea per l'Ambiente. Ma questo governo secondo te è in grado di portare avanti questi programmi che tu hai adesso illustrato? Oppure occorre un altro tipo di maggioranza? Io spero di sì, io parlo che sia necessario un governo che porti avanti queste cose, non sono un pass run, un tifoso al contrario come ad esempio si può immaginare in Parlamento che a prescindere da chi fa le cose, siccome le fa uno sono sbagliate. Allora se il governo decidesse di prendere una strada innovativa, moderna, di innovare tecnologicamente il nostro paese, la nostra economia e lanciare una grande proposta, noi saremmo lì a sostenere, però fino ad oggi questo non lo vediamo, vediamo invece progetti che consumano altamente il suolo, cementificano, pensiamo alle norme sulla semplificazione in materia urbanistica, addirittura Conte ha tentato di mettere il condone d'edilizio, che era il condone d'edilizio voluto da Crocetta che poi fu bocciato dalla Corte Costituzionale, bene insomma ci troviamo di fronte a una modalità di voler assolutamente riproporre vecchi progetti, siamo in Sicilia, pensiamo al Ponte sullo Stretto, adesso pure il Partito Democratico sembrerebbe che si sia convertito al Ponte sullo Stretto, qui c'è una questione veramente incredibile, perché quei 10 miliardi di Euro in Sicilia servirebbero veramente per rilanciare il trasporto pubblico interno, i collegamenti interni, portare l'acqua potabile, fare i depuratori che non ci sono, perché molte città, i cicerai lo sanno, scaricano direttamente a mare, ora c'è una questione di assenza di dare delle priorità, come accade in una buona famiglia? Alcuni giorni fa abbiamo letto un sondaggio pubblicato dal Corriere della Sera, in cui risulta che Europa Verde avrebbe raggiunto il 2,9%, mentre Italia Viva di Renzi è calendo al 2,5%, però stranamente a Italia Verde non viene concesso lo spazio televisivo che invece viene offerto a queste forze politiche, come mai secondo te? Questo ce lo chiediamo anche noi, a noi piacerebbe avere una risposta dalle direzioni dei Tg, pensate che il Tg3 guidato da Carlo Feo, da quando il direttore Carlo Feo ci ha dato 0 secondi, un atteggiamento veramente incredibile, ostile, profondamente ostile, non comprendiamo la ragione se non quella di evitare che i Verdi crescano, perché noi abbiamo avviato una serie di proposte chiare, pragmatiche, di governo in linea con quelle che sono le proposte dei Verdi europei, da quelli tedeschi e francesi, il fatto che a noi ci sia questa ostilità che va dalla Rai, Mediaset e la 7, che non consenta a nostri o nostri esponenti di poter dire il nostro punto di vista, è un fatto grave dal punto di vista della democrazia e vedete, questo non dovrebbe indignare solo noi Verdi, ma dovrebbe riguardare qualunque forza politica, perché quando un sistema democratico non riesce a garantire il pluralismo dell'informazione e a soggetti garantisce una capacità e una platea di esposizione mediatica incredibile e a noi dobbiamo subire un atteggiamento di grande ostilità, si apre un problema forte, noi abbiamo il 2,9%, non lo so, ce lo dice Ipsos sul Corriere della Sera, però sappiamo che le elezioni europee abbiamo preso il 2,5 spendendo 30 mila Euro, ci sono forze politiche che hanno speso milioni di Euro e non hanno raggiunto questo risultato, so solo che durante le elezioni europee noi non siamo stati in grado di poter spiegare i nostri programmi, perché quando chiamavamo le redazioni ci dicevano sempre di no, allora io non so chi ci sta vedendo, sicuramente siamo in tanti, però quella è la domanda che voglio riguardare a chi mi sta vedendo in questo momento, lei, la signora, il signore che mi sta guardando, potete anche avere un'opinione diversa dalla mia, votare l'EGA, votare PD, votare chi ritenete opportuno, ma è giusto o non è giusto che a noi non veniamo messa nella condizione di poter esprimere il nostro punto di vista affinché voi siete poi a decidere se diciamo cose giuste e meritevoli di attenzione, perché deve esserci questa censura inaccettabile in un sistema democratico come dovrebbe essere democratico quello del nostro paese? Perché in alcune regioni verdi sono presenti e soprattutto in Europa sono presenti e in Sicilia ci sono delle difficoltà a superare determinate percentuali, io l'altra volta ho intervistato Silvia Zamboni e abbiamo parlato del fatto che in Sicilia ci sono molti che possiedono cose abusive e temono una presenza dei verdi perché impedirebbe qualsiasi tipo di condono, tu che cosa ne pensi? Io penso che sia necessario un grande salto culturale anche da parte di noi verdi di riuscire a parlare in maniera moderna, quello che dobbiamo far capire è che non siamo giustizialisti, noi vogliamo che la cura del territorio consenta di evitare una situazione come è accaduta per esempio a Casteldaccia due anni fa circa, quando purtroppo un fiume in piena ha travolto una casa abusiva uccidendo un'intera famiglia, il tema che noi poniamo non è un atteggiamento vessatone nei confronti dei cittadini, perché rispettare le regole dell'antura significa rispettare e tutelare la pubblica incolumità e anche garantire i cittadini che le leggi le rispettano, io penso che anche in Sicilia come in buona parte del Sud si possa aprire un ragionamento molto importante per far sì che l'Europa possa contaminare in senso positivo e noi con la nostra cultura, la cultura della Sicilia, la cultura del Sud, una cultura importante dal punto di vista storico, possa contaminare in maniera positiva anche il resto d'Europa. Perché l'Europa Verde è contraria al taglio dei parlamentari? Perché l'operazione del Movimento 5 Stelle è un'operazione demagogica, inaccettabile, vogliono far credere che riducendo i parlamentari si riducono i costi della politica, però una cosa non l'hanno fatta, non hanno ad esempio tagliato gli stipendi dei parlamentari di Maio ed altri, perché i 15 mila Euro che percepiscono sono veramente tre volte tanto dello stipendio dei parlamentari che percepiscono i tedeschi, allora perché non hanno ridotto del 70-75% degli stipendi dei parlamentari se effettivamente volevano fare una riduzione dei costi della politica? Quello che loro stanno facendo col taglio dei parlamentari è un taglio alla democrazia, chi vi parla è riuscito a fare il parlamentare per due anni, io vengo da una famiglia popolare, modessa, sono nato e cresciuto in un quartiere di Roma, a casa Bernocchi, mia madre è casalinga, mio padre è un appuntato dei carabinieri, sono riuscito a diventare un parlamentare grazie anche a questa nostra democrazia, oggi il Movimento 5 Stelle vorrebbe trasformare la nostra democrazia in una democrazia di pochi, in una democrazia dell'elite e non è possibile e devo dire che è incredibile la posizione del Partito Democratico che oggi si fa etero dirigere dal Movimento 5 Stelle, quel Partito Democratico che per ben tre votazioni sul taglio dei parlamentari ha votato contro, alla quarta ha votato a favore per dare vita al governo insieme al Movimento 5 Stelle, ora devo dire è ancora più incredibile la posizione del Partito Democratico che dice che se non si cambia la legge elettorale il taglio dei parlamentari diventa pericoloso, ma questa posizione farebbe inorridire i nostri padri costituenti, perché la Costituzione è la Costituzione, non è che la Costituzione è brutta se c'è un tipo di legge elettorale e diventa bella se ce n'è un'altra, la nostra Costituzione andava difesa e invece non solo l'hanno difesa, ma hanno consentito questa operazione demagogica inaccettabile, ecco perché noi voteremo no, perché non si tratta di riduzione dei costi della politica, ma si tratta di un taglio alla democrazia, se volessero ridurre i costi della politica, dovevano ridurre del 70% lo stipendio dei parlamentari, come avviene in Germania e in Francia, invece non lo fanno, lascio a voi il motivo perché non lo fanno. Alla luce di quello che tu dici, la strada per le alleanze, per i verdi diventa sempre più difficile, perché la destra tu dici che imita addirittura il modello Bolsonaro, il PD dà questi segnali di incertezza totale, i verdi con chi possono dialogare realmente? I verdi intanto devono costruire i verdi, una presenza forte, autonoma, con ragazzi e ragazze preparati, noi abbiamo avviato le scuole di formazione dei giovani, la cosiddetta soltanto devo dire che sono ragazzi e ragazzi molto preparati per costruire la futura classe dirigente dei verdi di domani, intanto ripeto, quindi i verdi devono fare i verdi, costruire una forza autonoma, è molto molto importante e poi dialogare con chi ha a cuore il grande tema della conversione ecologica, dell'economia, cioè di contrastare il cambiamento climatico, di chi ha anche una dimensione etica della politica, perché la dimensione attuale della politica nel nostro paese è prettamente egoistica, è basata sull'egoismo e questo non va bene, noi dobbiamo pensare al futuro delle generazioni che verranno, non possiamo lasciare la nostra Italia, un'Italia piena di smog, piena di inquinamento, con i territori agricoli cementificati, dobbiamo garantire la sicurezza alimentare e sapere la genuità di ciò che mangiamo, garantire il lavoro attraverso questi processi economici virtuosi legati alla conversione ecologica come stanno facendo altri paesi, ecco perché c'è bisogno di una svolta ecologista nel nostro paese, perché chi ha governato e governa fino ad oggi non ha questa dimensione ed è una dimensione di chi guarda nel passato, guardare al passato non aiuta a costruire un futuro migliore. Senti, i 12 punti previsti nel programma di Europa Verde, Ambiente, Economia, etc., e l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, secondo te si possono attuare tutti questi punti che sono previsti in questi due importanti documenti. Ma assolutamente sì, ce lo chiede anche l'Europa, purtroppo però il piano energia e clima che l'attuale governo ha approvato viola questi obiettivi, ma sono obiettivi importanti, non sono cose astratte, tanto per farci capire, se noi vogliamo avere energia a basso costo ma anche pulita, dobbiamo fare degli investimenti in questa direzione, se vogliamo ridurre lo smog dobbiamo liberarci dall'uso degli idrocarburi, puntare all'energia rinnovabile, un piano energetico 100% rinnovabile è possibile, lo sta facendo la Germania, la Sveccia, la Danemarkia, ci sta puntando la Francia, la Spagna, non possiamo noi l'Italia del sole arrivare in ritardo a grandi obiettivi di questo tipo, che sono obiettivi non solo dal punto di vista ambientale, ma di una grande dimensione economica con una forte ricaduta occupazionale. Nelle prossime elezioni che ci saranno a settembre, ottobre, in Campania, Europa Verde ha raggiunto un accordo con Demos, cosa succede negli altri posti? Abbiamo raggiunto un accordo con Demos che è una realtà di un movimento cattolico legato alla comunità di Sant'Egidio e lo abbiamo raggiunto anche in Liguria, in altri posti ci saranno la presenza di Europa Verde dalla Campania, come ho detto prima, dalla Liguria, in Toscana, in Veneto, anche nella Val d'Aosta e pure nelle Marche in Puglia. Noi continuiamo di riportare dopo tanti anni molti consiglieri regionali per ricostruire attraverso i consiglieri regionali una presenza sul territorio, in un rapporto diretto con i cittadini, considerata la censura drammatica che noi Verdi subiamo dall'informazione televisiva generalista del nostro paese. Senti, ritorniamo al Recovery Fund, secondo te quello che ha ottenuto l'Italia rappresenta una vittoria oppure non è veramente tale? Ottenere quelle risorse, non dico che fosse semplice, anzi devo dire c'è stata una trattativa, l'aumento è dovuto purtroppo al peggioramento della caduta del nostro PIL e quindi l'aumento delle risorse è dovuto proprio a quel meccanismo. Il difficile viene adesso, come l'Italia intende spendere queste risorse per rilanciare la nostra economia, ma se cominciamo a fare i bonus a pioggia, dal bonus ristorante al bonus vacanze, francamente rischiamo di perdere la credibilità o comunque sia di confermare i dubbi che molti hanno su di noi. Noi dobbiamo fare quelle riforme necessarie, ad esempio nel settore della giustizia, per rendere la giustizia veloce. Una giustizia veloce significa dare certezza della pena, ma dare anche diritti alle vittime di chi subisce, pensiamo alla sede civile, pensiamo a tanti truffati da banca e quant'altro che non possono vedere le loro denunce a compimento con un giudizio in sede civile a causa della lungagine. Questo è un problema molto serio, perché passano 10-15 anni prima del compimento di un giudizio e poi tutte le questioni legate ovviamente alle infrastrutture, al trasporto pubblico, alla digitalizzazione nel nostro paese, sono lì gli investimenti che devono far crescere la nostra economia, ma fino adesso non abbiamo capito cosa intende fare il governo, tranne i bonus che sono francamente qualcosa di preoccupante. Il bonus ristorante francamente non ci sta. Mi ha colpito particolarmente questa azione solidale che c'è stata da parte dei parlamentari verdi a livello europeo, come la puoi spiegare nei confronti dell'Italia chiaramente? Noi abbiamo costruito, è stata l'attività diplomatica che i verdi italiani hanno fatto, è stata molto importante, io vorrei rivendicarla questa. I verdi italiani hanno fatto un grosso lavoro chiamando i verdi tedeschi, francesi, abbiamo chiamato gli austriaci, abbiamo costruito insieme un documento per dire sia al Recovery Fund, sia al MES, la posizione del Movimento 5 Stelle è francamente incomprensibile del perché non debbano arrivare 36 miliardi di Euro in Italia a tasso negativo, perché se andassimo a prendere quei soldi da altre parti pagheremmo 4-5 miliardi di Euro in più. Grazie a questa attività diplomatica siamo riusciti a costruire questa operazione fortemente solidale che ha condizionato i governi di quei paesi a un atteggiamento più attento nei confronti dell'Italia. Nel 2022 ci saranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Palermo, quindi del Sindaco di Palermo e poi del Presidente della Regione. I verdi in tutto questo perché già sono iniziate le prime dichiarazioni da parte di esponenti politici nazionali, cito uno per tutti, faraone siciliano e palermitano del capogruppo di Italia Viva. Lui sostiene che ci sarà un'aggregazione di sinistra in cui ci saranno pure i verdi. Il coordinatore regional ha risposto che non ne sa nulla perché non è stato chiamato. I verdi come si debbano muovere in questo periodo per affrontare queste due competizioni elettorali? Durante, ripeto, continuare a fare le battaglie ecologiste, entrare in rapporto con i cittadini e costruire una presenza verde civica alle prossime elezioni comunali. Dopodiché sulla base dei programmi vedremo. Inviterei Farone a non usare il nome dei verdi perché usi il suo, il suo partito che i verdi ci pensiamo noi. Ma eventualmente sei disponibile ad un confronto su questi temi? I confronti sono la base della democrazia e è a noi che viene tolta la possibilità di un confronto. Se mi dovessi confrontare con Farone gli chiederò per quale ragione ad esempio non sottopongono la commissione di vigilanza il fatto che Tg3, Tg1 e gli altri censurano i verdi perché non è un problema dei verdi, è un problema della democrazia nel nostro paese. Quindi noi siamo sempre aperti al confronto su tutti i temi, sono gli altri che a volte vedono il confronto al senso unico a secondo ciò che gli interessa. Allora, fermo arrivando a quello che tu hai detto e spero di fare questo confronto, però dico eliminando quelli che sono gli estremi nella politica italiana, i verdi, chiaramente discutendo su un programma che prevede i punti fondamentali che sono quelli dei verdi, con quale forza si può dialogare? No, ma il problema è un'impostazione anche proprio, come dire, culturale. Io vorrei cominciare a ragionare con coloro di quali pensano ad esempio che nell'Assemblea regionale siciliana è ora di dirla basta di presentare i contenuti condoni. E d'accordo su questo, Faraone? Intanto lo sai. Si sta discutendo dell'approvazione di una nuova legge urbanistica dell'Assemblea regionale siciliana. Che all'articolo 18 prevede proprio il condono anche nelle zone vincolari. Quindi il problema non è dire quali forze, il problema è che su quali basi si costruisce una svolta in Sicilia che metta al centro il cittadino e la cittadina onesta che crede nello stato nella legge di non essere sopraffatto dal diritto del più forte o del più furbo. Quindi da questo punto di vista il confronto avviene su queste basi, su molte questioni, dal tema delle trivellazioni. La regione, una deve continuare a autorizzare trivellazioni sul proprio territorio? Io penso assolutamente no. Quali sono i provventi che la regione Sicilia e quindi queste forze politiche con cui ci confrontiamo vogliono fermare quei processi di desertificazione. Non so se sapete che la Sicilia è la prima regione in Italia che ha il maggior numero di ettari di territorio desertificati e questo è un fatto molto negativo per l'agricoltura siciliana. 38 gradi nell'Artico è un post che ho letto sulla tua pagina. A qualcuno interessa qualcosa tu hai detto magari se ne fotte qualcosa. Sì perché il tema del cambiamento climatico della svolta green è solo un brand, un brand è come mettersi un bel vestito, far vedere che si è fichi, dopodiché quando sei chiamato in Parlamento nelle regioni ad essere conseguente fa esattamente l'opposto. Allora basta con queste operazioni di marketing che viene chiamato in inglese il greenwashing, il lavaggio verde, perché abbiamo bisogno di maggiore rispetto. I tempi ci indicano una risposta immediata. Noi abbiamo un dovere etico nei confronti delle generazioni che verranno di cambiare. Se invece l'atteggiamento di questi politici o politicanti, come li vogliamo chiamare, su questo sono arrabbiato, che usano il brand del verde come forma di marketing per apparire, loro saranno i nostri avversari. Senti qualche parolina sul decreto sicurezza? Non c'è nessuna parolina perché i decreti sicurezza sono ancora quelli di Salvini, dicono che hanno trovato un accordo, dopodiché dicono che l'accordo verrà rinviato dopo l'estate. Allora non si capisce la ragione per la quale… Se c'è un'emergenza di affrontare questo tema dell'immigrazione che avviene in questa maniera, delle torture, di ciò che accade nei lager libici e di questi decreti di sicurezza che sono gli stessi di quelli di Salvini, non capisco per quale ragione debba essere il tutto rinviato dopo l'estate. Questa cosa non può andare in vacanza, purtroppo hanno fatto finta come se dovesse andare in vacanza in ferie. Per quanto riguarda la parità di genere, tu cosa pensi di portare avanti qualche proposta precisa? Parla della nostra storia, noi siamo l'unica forza politica in Italia che per statuto ha il doppio portavoce, uomo-donna, all'obbligo della parità di genere negli organismi dirigenti. Lo pratichiamo da tanti tanti anni, è una conquista culturale importante, però vedete come il voto che è accaduto in Puglia alcuni giorni fa dove è stato bocciato l'emendamento per la doppia preferenza indica che c'è una ritratezza culturale, un conservatorismo becero che deve essere contrastato. Devo dire che in questo caso ha fatto bene il governo a esercitare i poteri sostitutivi, a imporre della regione Puglia la doppia preferenza, ma c'è molto lavoro da fare non solo dal punto di vista della politica, ma anche sul tema della parità salariale, che è l'elemento che veramente ci preoccupa molto, della differenza di salario tra uomo e donna. Alessandra Gheise, come tu sai, propone di utilizzare il 50% del recovery fund a favore delle donne? Tu come la pensi? Ovviamente non è che dice a favore delle donne così in generale, all'interno di oggetti di cui abbiamo parlato. Penso che sia necessario indicare una svolta molto importante legata al cambiamento culturale nel nostro paese e questo può essere uno degli elementi. l'agurio è principalmente di sperare che questa fase di Covid sia terminata, anche se fuori dai confini dell'Italia i focolari aumentano in maniera estremamente preoccupante. Noi ci siamo e quando non ci vedete nelle televisioni nazionali non è che non ci vedete perché non ci vogliamo andare noi, non ci vedete perché non ci vogliono. Angelo ti ringrazio moltissimo, a risentirci. Grazie, grazie a voi.